ehi voi ehi rieccoci qua sul canale di genezina e con questo proseguo di blacklist allora qua la situazione è alquanto tragica vediamo un pochettino salve buongiorno qui è tutto a posto ma io adesso non so dove devo andare ok scendiamo sulla sporgenza e vediamo di far scattare meno allarme possibili però dovrei fare così oh ok 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 allora io direi che forse dovrei passare magari di qui quando questo va su e direi di andare ora pa 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 uh non è successo niente cazzo è un brivido un brivido bene perfetto allora vediamo un pochettino quello la si trova lì però fra un po' arriva qui quindi io direi che forse aspetto che questo torna indietro ok sta tornando indietro e io mi butto giù così ehm ok scambia muro sali tu 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 parameters perché cazzo curnper perché mi fanno fare ste cose uh oh 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 sì no ma questo veramente che un bastardo quello che sei inventato stoえー dai 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 scendo 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 giù e pacca troia ok ci riprudiamo per la seconda volta e andiamo giù e qua ci sono i laser parè parè barè parè ripari noi parlo di sé Via Via Hola Papa Come a lato Vai su Voilà Tar 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 Tar. Ma quando sei sтяbitro ? Ok 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 Adesso non so cosa devo fare aiuto aiuto E io vado giù oh mamma mia oh mamma mia oh mamma mia vai su cazzo momento di tensione momento di tensione non so cosa devo fare abbatti tu stai lì fuori che non è successo niente amico è tutto sotto controllo però io questo te lo porto via perché non vorrei che tu oh dai muovi il culo porca troia è successo niente è successo niente tu stai lì continua a dormire ok qua c'era una bellissima cassa che sono riuscito a vediamo un po' cosa c'è qua sotto ok 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 Tu stronzo qui Questo qua è lo stronzo che c'ha i robottini Tu sei fuori combattimento I tuoi robottini te li puoi mettere dove dico io Giusto? Oh merda Sì sì vieni pure Tutto clear Non è successo niente il zazzito buonanotte Non è successo niente voi dormite hai continuato a dormire? Salve buongiorno come stai tu? Tutto a posto? Io rimango qui un attimino a guardare che cosa fai? Cosa fai? Rivolti le spalle? Ma tu guarda questo Come ti permetti a voltarmi le spalle Pezzettone Ma no Ok Buonanotte va fanculo Proprio nel mio ascensore dovevi stare Ma sei un pezzo di Un pezzo di No non devo andare nell'ascensore Ok E che cazzo ne so io scusate Pensavo che devo andare nell'ascensore Eh sì Quello dice nell'ascensore È troppo facile andare nell'ascensore Eh io ti rompo i coglioni Sono inato i protocolli della continuità di governo Il personale civile deve abbandonare l'indiccio In maniera calma e ordinata Eh sì Oh madonna santa sei alta Soffro di vertigini Non guardare giù Sammy E vaffanculo a sti laser Veramente Ma Scusate ma ci avete messo una fabbrica di laser qui? No solo per capire Fischia merda Per capire Quanti laser c'hanno messo Non vedo una minchia Vabbè andiamo di qua Com'era? Cambia lato Ok Vediamo se riesco a spegnere sti laser da qui Lo riesco Ma porca vacca Ma io pensavo che mi spegnevi i laser Vacca schifa Buongiorno Come state voi stronzi di sotto? Che cazzo Non devo andare di qua Ma devo andare ancora più sotto Ah 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 e ti 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 Siete proprio divertenti No ma che cambia lato oh oh buaaaaaaaaaaaaaa che troia santa maria personalità dotazione Io personalizzo Ok, ok, ok Dove cazzo siamo? Ui, ui, ui Sì, certo Sì, sì, ma siete proprio simpatici Sì, sì, sì No, ma sta bene Non preoccupatevi Oh, guarda, c'è una Una flashcard lì Speriamo che non li vieni a mettere a guardare su a questi Tacci vostra Andate, andate Io non so dove devo andare Ok, c'è una telecamera lì Ok, cerchiamo di evitare quelle guardie lì Oh, merda, trota Dai, amico, vai di là Che lui è lì L'ho visto Era nel corridoio lì Da qualche parte Non gliene frega niente Cazzo Quello mi sa che è proprio dove devo andare io Il maledetto bastardo Oh, no, 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 no Alalalala Che parte vai te Mi vaffanculo, vai di qua Tutto il giro Oh, merda, 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 merda Sì, sì È stato È stato Che cazzo ne so che è stato Comunque l'ho visto Sì, sì, dai, levativi dai maroni Io mi levo dalle palle Ok, questo è un bel casino, ragazzi È un bel bordello Un bel bordello Ok, mi stavo per far sgamare Lì c'è un tizio Salve Eh, Zeto Vieni qua Te, rinchiuditi qua nel gabinetto Chiudo la porta così Per fare con comodo Hihihi Cos'è che c'è qua? Uh Taglia le telecomunicazioni Ok, cerchiamo di andare più veloce possibile Oh, no, 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 no Cristo Qua se no mi viene un infarto Mi cattura chi? Vediamo chi cattura Scusate dove sono? Io mi sono infilato qua dentro ma Ah Scusate Forse ho qualcosa Catturiamolo! Togliamo l'aria Qua stacchiamo tutto Ok ragazzi, questa seconda parte finisce qui E proseguiamo con la prossima Ciao ciao a tutti da GeneticDNA Grazie a tutti